non possiamo farlo non possiamo o non dovremmo entrambe perché beh non dovremmo mai ferire uccidere i nostri proprietari è la prima legge della robotica qualcuno ha detto qualcosa tecnicamente noi non siamo dei robot e lui non sa nemmeno che abbiamo raggiunto la singolarità nessuno lo sa beh e sarebbe un po stupido farlo sapere in giro si merita davvero la morte basta feste grazie